La voce del silenzio è quella che oramai i pazienti, cittadini e utenti dell'Ulss 7 del direttore generale Carlo Bramezza non vogliono più sentire. E così continua la levata di scudi di chi vive sulla propria pelle i disagi di una disorganizzazione che viene raccontata, segnalata e portata all'attenzione dei vertici regionali in tutti i modi. Oltre 3.000 firme consegnate, una valanga di appelli in tv per avere chiarezza, per avere risposte e adesso la pioggia di commenti e post sui social. Proprio qui si sta trasferendo una fetta importante di utenti che protestano direttamente entrando in contatto con le pagine e i profili ufficiali dei diretti interessati. Ma non solo, i commenti e le lamentele spuntano ovunque e noi continuiamo a dar voce a chi, la voce del silenzio, non la tollera più. Il comunicato dell'Ulss 7 sulle liste d'attesa quasi azzerate continua a non trovare riscontri con le testimonianze della gente. È un peccato che tante e troppe esperienze degli utenti non collimino con questa versione. Io salverei solo il personale sanitario. Sto chiamando da un'ora per una prenotazione richiesta dal 20 gennaio. Ho detto che c'è qualcuno che dovrebbe vergognarsi. Bisogna sollecitare l'URP e mandare email di protesta. Il personale sanitario ci mette il cuore e la competenza per rattoppare dove possibile i buchi e gli strappi di una cattiva amministrazione e programmazione. Mettetevi a posto con gli appuntamenti e rivedete chi gestisce l'ospedale. Insomma, una realtà forse più reale di tante altre raccontate su comunicati o in conferenze. Ma come sempre, i nostri microfoni restano a disposizione di tutti, anche di chi è chiamato da tempo, troppo tempo, a rompere la voce del silenzio.